3 marzo 1804 muore a venezia il pittore giandomenico tiepolo figlio di giambattista nato nel 1727 a 13 anni entra nella bottega del padre e a soli 19 anni gli viene affidato l'incarico di dipingere le stazioni della via crucis nella chiesa di san polo a fresca villa valmarana a vicenza villa pisani astra il palazzo contarini a venezia siamo alla fine del settecento è scoppiata la rivoluzione francese giandomenico mette in caricatura la società del tempo vediamo alcune straordinarie sue invenzioni il cavaliere servente vale a dire una coppia di inanerottoli di personaggi ridicoli che di giorno fra l'altro vogliono la candela oppure l'altalena un'allegria scomposta gente che alza le braccia tirano fuori la lingua sia l'uomo che la donna giandomenico è spietato non lascia che questa società passi così impunemente sulla scena siamo nel 1797 è la data della fine della repubblica di venezia dopo mille anni venezia è conquistata dai francesi giandomenico tiepolo ormai anziano si ritira nella sua casa di campagna e disegna la vita di pulcinella che fa tutte le cose vale a dire nasce lavora viene percosso viene anche imprigionato e alla fine impiccato nella rivoluzione francese aveva detto uguaglianza giandomenico tiepolo par dire sì siamo tutti uguali perché siamo tutti pulcinella chi ordina l'impiccagione di pulcinella un altro pulcinella allora la vita forse è solo una comica assurdità